A 50 anni ho deciso di cambiare la mia vita e seguire la mia passione per le corse automobilistiche. Ho lasciato il mio vecchio nome, Silverio Tintisona, e ho abbracciato un nuovo inizio. Ogni auto che guido porta il numero 43, un simbolo della mia determinazione. Ho iniziato con un rally locale, dove la gente mi derideva, ma io non mi sono fermato. Con ogni corsa ho imparato, ho combattuto e ho vinto. Condivido tutto questo sul mio canale YouTube. Non solo le mie avventure in pista, ma anche come ogni sfida mi ha reso più forte. Non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni, e io sono qui per dimostrarlo. Non solo le mie avventure in pista, ma anche come ogni sfida mi ha reso più forte. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.